mancano 76 giorni alla fine dell'anno siamo sotto il segno della bilancia la chiesa ricorda santa edvige l'onomastico oggi è l'onomastico di edvige il nome a origine germanica e significa sacra battaglia il numero porta fortuna è l'otto il colore è il verde e la pietra associata e lo smeraldo accadde oggi il 16 ottobre del 1978 carol voitila diventa papa giovanni paolo secondo è il primo papa non italiano dopo 455 anni e il primo papa polacco della storia chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 16 ottobre ricordiamo lo scrittore irlandese oscar wilde l'attore americano team robbins la citazione del giorno la buona educazione consiste nel nascondere quanto bene pensiamo di noi stessi e quanto male degli altri mark twain dice il saggio la fretta non ha mai fortuna il bel paese nel 1968 il terribile terremoto del belice demoli completamente la cittadina siciliana di gibellina nel trapanese il vecchio centro distrutto dal sisma e abbandonato fu trasformato negli anni 80 nel cretto di burri un gigantesco monumento di land art l'artista alberto burri ricoprì i ruderi con blocchi di cemento lasciando però delle fenditure che ripercorrono fedelmente le vie e i vicoli della vecchia città in una sorta di labirinto ogni fenditura è larga dai 2 ai 3 metri mentre i blocchi sono alti un metro e sessanta il cretto di burri ha una superficie di circa 80.000 metri quadrati ed è una delle opere d'arte contemporanea più estese al mondo visibile anche dallo spazio grazie 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 grazie